Reina La maggior parte del tempo Reina riusciva a controllare i propri incubi. Aveva addestrato la mente a cominciare tutti i sogni nel suo luogo preferito, il giardino di Bacco sulla collina più alta di Nuova Roma. Si sentiva tranquilla e al sicuro lì. Quando le visioni invadevano il suo sonno, come succedeva sempre ai semi dèi, lei le conteneva, immaginando che fossero riflessi nella fontana del giardino. Questo le permetteva di dormire bene e di non svegliarsi il mattino dopo con i sudori freddi. Quel giorno tuttavia non fu così fortunata. Il sogno iniziò abbastanza bene. Era nel giardino, in un caldo pomeriggio di sole, e il pergolato era pieno di caprifogli in fiore. Nella fontana centrale la piccola statua di Bacco spruzzava acqua nella vasca. Le cupole dorate e i tetti rossi di Nuova Roma erano distesi ai suoi piedi. A ovest, in lontananza, sorgevano le fortificazioni del Campo Giove. E oltre ancora, il piccolo Tevere si snodava dolcemente nella vallata, seguendo il profilo delle colline di Berkeley, sfocate nella luce dorata dell'estate. Reina aveva in mano una tazza di cioccolata calda, la sua bevanda preferita. Sospirò soddisfatta. Valeva la pena difendere quel posto, per se stessa, per i suoi amici, per tutti i semidei. I quattro anni al Campo Giove non erano stati facili, ma erano stati i migliori della sua vita. A un tratto, l'orizzonte si incubì. Reina pensò che fosse una tempesta in arrivo. Poi si rese conto che una gigantesca ondata di terra stava invadendo le colline, rivoltando sotto sopra i campi, senza lasciare nulla d'intatto dietro di sé. Sotto il suo sguardo inorridito, l'onda raggiunse il margine della vallata. Il Dio Termino serse una barriera attorno al campo, ma riuscì solo a rallentare la distruzione per un momento. Una vampata di luce viola schizzò verso l'alto come un vetro infranto, e la marea si riversò oltre il confine, sradicando alberi, distruggendo strade, cancellando il piccolo Tevere dalla mappa. È una visione, pensò Reina. Posso controllarla. Cercò di cambiare il sogno. Immaginò che la distruzione fosse solo un riflesso nella fontana, una sorta di innocuo video. Ma l'incubo continuò più vivido che mai. La terra inghiottì il campo di Marte, cancellando ogni traccia di fortini e trincee dei giochi di guerra. L'acquedotto della città crollò come una fila di mattoncini. Lo stesso campo Giove cadde. Le torri di guardia distrutte. Le mura e le caserme disintegrate. Le urla dei semidei furono ben presto ammutolite. E la terra continuò la sua avanzata. Un singhiozzo serrò la gola di Reina. I templi e i monumenti scintillanti della collina dei templi crollarono. Il Colosseo e l'ippodromo furono spazzati via. L'ondata di terra raggiunse la linea del Pomerio, ed entrò con un rombo di tuono nella città. Famiglie e cittadini corsero verso il forum. I bambini gridavano terrorizzati. Il senato implose. Ville e giardini scomparvero come grano travolto dalla trebbiatrice. La marea ribollì verso l'alto, diretta al giardino di Bacco, l'ultimo residuo del mondo di Reina. Gli hai lasciati senza difese, Reina Avila Ramire Sareiano. Una voce di donna si levò dalla terra nera. Il tuo campo sarà distrutto. La tua impresa è la missione di un pazzo. Il mio cacciatore sta venendo a prenderti. Reina si staccò dalla balaustra del giardino, corse alla fontana di Bacco e si aggrappò al bordo della vasca, fissando disperatamente l'acqua. Ordinò all'incubo di trasformarsi in un riflesso innocuo. Tanca! La vasca si spezzò in due, spaccata da una freccia grande quanto una picca. Reina guardò scioccata il fusto che terminava con penne di corvo. Era dipinto di rosso, giallo e nero, come un serpente corallo. E la punta di ferro dell'ostige affondava nel suo stomaco. Alzò lo sguardo annebbiato dal dolore. Dal margine del giardino si avvicinò una figura nera, la sagoma di un uomo, i cui occhi brillavano come fari in miniatura, accecandola. Udì lo sfregamento del ferro sul cuoio, mentre lo sconosciuto estraeva un'altra freccia dalla faretra. Poi, il sogno cambiò. Il giardino e il cacciatore svanirono, insieme alla freccia nel suo stomaco. Si ritrovò in un vigneto abbandonato. Innanzi a lei, ettari di viti morte pendevano dai filari di legno come scheletri in miniatura. Più avanti, il terreno terminava con uno strapiumbo sul mare. Reina riconobbe il posto. Il vigneto di Goldsmiths sulla costa settentrionale di Long Island. I suoi esploratori l'avevano requisito come base avanzata per l'attacco della legione al campo mezzosangue. Aveva ordinato al grosso della legione di restare a Manhattan fino a un nuovo ordine. Ma ovviamente Ottaviano aveva disubbidito. L'intera dodicesima legione era accampata nella vigna più settentrionale. Si erano sistemati con l'abituale precisione militare. Trincee profonde tre metri e terrapieni muniti di punte attorno al perimetro. Una torre di guardia a ogni angolo armata di baliste. Dentro, le tende erano disposte in file ordinate bianche e rosse. Gli stendardi delle cinque coorti si increspavano al vento. La vista della legione avrebbe dovuto rincuorarla. Era una piccola forza, appena a duecentosemidei, ma erano ben addestrati e ben organizzati. Se Giulio Cesare fosse tornato dal regno dei morti, non avrebbe esitato a riconoscere le truppe di Reina come valorosi soldati di Roma. Ma non avrebbero mai dovuto trovarsi così vicini al campo mezzosangue. L'insubordinazione di Ottaviano le fece stringere i pugni. Stava sfidando di proposito i greci, sperando di provocare una battaglia. La sua visione si restrinse, mettendo a fuoco il portico della fattoria, dove Ottaviano sedeva su una poltrona dorata che somigliava in modo troppo sospetto a un trono. Oltre alla toga purpurea da senatore, al distintivo da centurione e al coltello dell'augure, aveva adottato una nuova onorificenza, un manto bianco sollevato a coprire il capo, che lo designava come Pontifex Maximus, alto sacerdote degli dèi. Reina avrebbe voluto strangolarlo. Nessun semidio a memoria d'uomo aveva mai assunto quel titolo. Così facendo, Ottaviano si stava elevando quasi al grado di imperatore. Alla sua destra, rapporti e mappe erano sparsi su un basso tavolino. Alla sua sinistra, un altare di marmo era pieno di frutta e offerte d'oro, senza dubbio per gli dèi. Ma Reina sospettò che fosse più un altare in onore dello stesso Ottaviano. Al suo fianco, l'aquilifero Jacob, il legionario incaricato di portare l'aquila d'oro della legione, stava sull'attenti, sudando nel mantello di pelle di leone. Ottaviano era nel bel mezzo di un'udienza. Ai piedi delle scale c'era un ragazzo inginocchiato, vestito con un paio di jeans e una felpa col cappuccio spiegazzata. Il centurione Mike Cahale, della prima coorte, così come Ottaviano, era in piedi accanto al ragazzo, le braccia incrociate e un'espressione di disappunto. Bene, bene. Ottaviano studiò una pergamena. Vedo che sei di un certo lignaggio. Un discendente di orco. Il ragazzo con la felpa alzò il viso e Reina trasalì. Bryce Lawrence. Riconosceva la zazzera spettinata, il naso rotto, gli occhi verdi e crudeli, e il sorriso spavaldo e maligno. «Sì, mio signore», confermò Bryce. «Ma non sono un signore». Ottaviano sorrise impercettibilmente, arricciando gli occhi. «Solo un centurione, un augure e un umile sacerdote che fa del proprio meglio per servire gli dèi. Se ho ben capito, sei stato messo in congedo forzato dalla legione per...» «Ah, problemi disciplinari». Reina cercò di gridare, ma era inutile. Ottaviano sapeva benissimo il motivo per cui Bryce era stato sbattuto fuori. Proprio come il suo genitore divino, Orko, il dio infernale della punizione. Bryce era incapace della benché minima forma di rimorso. Il piccolo psicopatico se l'era cavata bene con lupa, ma non appena era arrivato al campo Giove si era dimostrato impossibile da addestrare. Aveva cercato di dare fuoco a un gatto solo per divertimento. Aveva pugnalato un cavallo per poi liberarlo imbizzarrito in pieno forum. Era perfino sospettato del sabotaggio di una macchina d'assedio durante i giochi di guerra, uno scherzo valordo che aveva provocato la morte del suo centurione. Se Reina avesse potuto dimostrarlo, la punizione di Bryce sarebbe stata la morte. Ma poiché le prove erano solo circostanziali, e la famiglia di Bryce era ricca e potente e aveva molta influenza a Nuova Roma, se l'era cavata con l'esilio. «Sì, Pontifex», confermò Bryce lentamente. «Ma se posso dirlo, quelle accuse erano infondate. Sono un fedele romano». «Mike Cahale stava facendo del proprio meglio per non vomitare». Ottaviano sorrise. «Io sono un sostenitore delle seconde occasioni. Hai risposto alla mia chiamata alle armi. Hai le credenziali e le lettere di raccomandazione adeguate. Giuri di seguire i miei ordini e di servire la legione?» «Lo giuro», rispose Bryce. «Allora sei reintegrato in Probazio», decretò Ottaviano. «Finché non avrai dato prova del tuo valore in battaglia». Fece un gesto a Mike, che pescò dal suo sacchetto una targhetta di piombo con la scritta Probazio e un cordino di cuoio che mise al collo di Bryce. «Presentati alla quinta coorte», ordinò Ottaviano. «A loro farà comodo una nuova leva, una prospettiva diversa. Se il centurione Dakota non è d'accordo, digli di parlare con me!» Bryce sorrise come se gli avessero appena regalato un coltello affilato. «Sarà un piacere!» «Eh, Bryce!» Il volto di Ottaviano assomigliava in qualche modo a quello di un ghoul sotto il manto bianco. Gli occhi troppo penetranti, le guance troppo scavate, le labbra troppo sottili e pallide. «Per quanti soldi, potere e prestigio la tua famiglia apporti alla legione? Ricorda sempre che la mia famiglia ne possiede di più! Io ti sto appoggiando personalmente, come sto facendo con tutte le nuove reclute. Segui i miei ordini e farai carriera in fretta. Presto potrei avere un lavoretto per te, l'occasione giusta per dimostrare il tuo valore. Ma deludimi e io non sarò indulgente come reina!» «Mai capito!» Il sorriso di Bryce scomparve. Per un attimo sembrò che volesse replicare, invece d'acque. E annui. «Bene!» Concluso Ottaviano. «Dimenticavo!» «Tagliati i capelli!» «Non vorrei sembrare un volgarissimo Grecus!» «Puoi andare!» Quando si fu allontanato, Mike Cahale scosse la testa. «E con questo siamo due decine!» «È un'ottima notizia, amico mio!» Lo rassicurò Ottaviano. «Ci servono delle braccia in più!» «Assassini!» «Ladri!» «Traditori!» «Le ali semidei!» Replicò Ottaviano. «Che devono la loro posizione a me!» Mike aggrottò la fronte. Prima di conoscere lui, reina non aveva mai visto nessuno con muscoli del genere. Le braccia di Mike sembravano le canne di un bazooka. Aveva la faccia larga, la carnagione bruno-dorata, i capelli neri come onice e gli occhi scuri e fieri come un antico re hawaiano. Lei non riusciva a capacitarsi che quella specie di armadio fosse figlio di Venere, ma nessuno nella legione lo aveva mai preso in giro per questo. Non dopo che lo avevano visto frantumare rocce a mani nude. A ogni modo, a reina era sempre piaciuto. Purtroppo, Mike era molto leale con chi lo sosteneva. E a sostenerlo adesso, era Ottaviano. Il pontifex si alzò, stiracchiandosi. «Non preoccuparti, vecchio mio. Le nostre squadre di assedio hanno circondato il campo greco. Le nostre aquile dominano il cielo. I greci non andranno da nessuna parte finché non saremo pronti a colpire. Fra undici giorni, le mie forze al completo saranno in posizione. Le mie sorpresine saranno tutte predisposte. Il primo agosto, la festa della speranza. Il campo greco cadrà. Ma reina ha detto «Ne abbiamo già parlato!». Ottaviano si sfilò il pugnale di ferro dalla cintura e lo lanciò sul tavolino, dove si conficcò su una mappa del campo mezzo sangue. «Reina ha perso il suo grado. È andata nelle antiche terre. Ed è contro la legge. Ma la madre terra è inquieta per colpa della guerra fra greci e romani, giusto? Gli dèi sono inabili per lo stesso motivo, giusto? E noi come risolviamo il problema, Mike? Eliminiamo la divisione e spazziamo via i greci? Facciamo in modo che gli dèi recuperino la loro manifestazione più appropriata, quella romana. E quando saranno tornati nel piano delle forze, Gea non oserà sorgere. Piomberà di nuovo nel suo sonno. Noi semi dèi saremo forti e uniti, come ai bei vecchi tempi dell'impero. E poi il primo agosto è una data di ottimo auspicio. Il mese porta il nome del mio antenato Augusto. E sai come unificò i romani? Prese il potere e divenne imperatore, borbottò Mike. Ottaviano liquidò il commento con un gesto della mano. Ciocchezze! Salvò Roma diventandone il princeps. Voleva la pace e la prosperità, non il potere! Credimi, Mike, io intendo seguire il suo esempio. Salverò nuova Roma. E quando l'avrò fatto, mi ricorderò degli amici. Mike spostò il peso del suo corpaccione da un piede all'altro. Ne sembri molto sicuro. Il tuo dono profetico ha... Ottaviano lo bloccò alzando una mano. Lanciò un'occhiata a Jacob, l'aquilifero, che era ancora sull'attente alle sue spalle. Jacob, puoi andare. Perché non lucidi l'aquila o... quello che ti pare? Jacob rilassò le spalle, sollevato. Sì, augure, cioè centurione, cioè pontifex, cioè vai. Vado. Quando si fu allontanato, il volto di Ottaviano si rabbuiò. Mike, ti ho detto di non parlare del mio... problema. Ma per rispondere alla tua domanda, no. Continuo ad avere delle interferenze con il dono di Apollo. Lanciò un'occhiata risentita al mucchietto di animaletti di peluche martoriati in un angolo del portico. Non riesco a vedere il futuro. Forse il falso oracolo al campo mezzosangue sta facendo qualche stregoneria. Ma come ti ho già detto, in via del tutto confidenziale, Apollo mi ha parlato chiaramente l'anno scorso al campo Giove. Ha benedetto personalmente i miei sforzi. Ha promesso che sarò ricordato come il salvatore dei romani. Ottaviano allargò le braccia, rivelando il tatuaggio dell'arba, simbolo del suo divino padre. Sette linee indicavano i suoi anni di servizio, più di qualunque altro ufficiale, inclusa Reina. Non temere, Mike. Schiacceremo i greci, fermeremo Gea e i suoi scagnozzi. Poi prenderemo quell'arpia che i greci stanno proteggendo, quella che conosce a memoria i libri sibillini, e la costringeremo a consegnarci il sapere dei nostri antenati. E a questo punto, sono sicuro che Apollo mi restituirà il dono della profezia. Il campo Giove sarà più potente che mai. Noi domineremo il futuro. Mike non si rasserenò, ma levò il braccio nel saluto militare. Sei tu il capo? Sì, lo sono. Ottaviano estrasse il pugnale dal tavolo. Ora va a dare un'occhiata a quei due nani che hai catturato. Li voglio terrorizzati a dovere prima di interrogarli di nuovo e spedirli nel tartaro. Il sogno scomparve. Ehi, sveglia! Reina sbatte le palpebre e aprì gli occhi. Clison Edge si stagliava su di lei e la scuoteva per una spalla. Abbiamo guai! Il tono serio del satiro le rimise in circolo il sangue. Che c'è? Reina si tirò su a sedere con fatica. Fantasmi? Mostri? E già grottò la fronte. Peggio. Turisti.